salve ragazzi e ragazze ci ritroviamo in questa modalità diciamo online e così cerchiamo di riallacciare un po i contatti come va spero di trovarvi bene ricorderete che siamo arrivati alla subordinata relativa e quindi prima di riprendere le fila del discorso facciamo un passo indietro e ripetiamo proprio la subordinata vi ricordate cos'è una subordinata è una frase naturalmente secondaria che non è indipendente infatti dipende sia logicamente sia grammaticalmente da un'altra frase o proposizione e quale può essere quest'altra frase può essere l'autonoma indipendente la principale quella che può stare da sola come diciamo oppure a sua volta può essere un'altra subordinata o una coordinata che in questo caso funge da reggente della subordinata quindi la subordinata è una proposizione secondaria da sola non può stare vi ricorderete che la subordinazione avviene sia attraverso congiunzioni subordinanti che sono da andare a ripetere sempre oppure preposizioni vediamo degli esempi se pioverà sono molto contento per il mio giardino quindi qui abbiamo un se che è una congiunzione il drone volo sulla zona per studiare la situazione e qui abbiamo un per che è una preposizione che introduce una subordinata e sicuramente qualcuno qualcuno di voi già ha in ricordo o intuito perché in classe abbiamo anche anticipato alcuni contenuti quale può essere questa subordinata introdotta dal per oppure la subordinazione può avvenire anche attraverso dei pronomi e degli avverbi subordinanti come per esempio si chiese cosa stesse facendo a casa in questi giorni oppure sto così bene in casa da voler leggere molti libri e mi auguro che sia così rimaniamo a casa leggiamo approfondiamo magari andiamo a prendere quel libro che avevamo comprato e non abbiamo ancora letto mi raccomando leggiamo in questi giorni bene la subordinazione può essere espressa in due modi ricorderete può essere nella forma esplicita oppure nella forma implicita la forma esplicita vede il verbo a un modo finito e quindi quali sono i modi finiti l'indicativo il congiuntivo oppure il condizionale sentiamo gli esempi so che hanno ragione quindi hanno indicativo se rimanessi a casa tua staresti meglio soprattutto in questi giorni no rimaniamo a casa rimanessi congiuntivo speravamo che sareste venuti e ma non si può sempre la stessa cosa dobbiamo dire ognuno sta a casa sua quindi non si va da nessuna parte sareste venuti e condizionale questa è la forma esplicita poi abbiamo la forma implicita quindi nella subordinata troveremo un verbo al modo o infinito o participio o geruglio sono i modi cosiddetti indefiniti esempio pensava di studiare e non pensava bisogna studiare infinito andiamo avanti giunto al sicuro avvisò la famiglia giunto come fatto detto participio prosegui facendo tante attività creative quindi prosegui nelle tue attività facendo questo è un geruglio quindi diamo sfoggio e spazio alla creatività in questi giorni allora quindi la subordinata può essere sia esplicita sia implicita esplicita se abbiamo modi finiti implicita se abbiamo modi infiniti o indefiniti meglio veniamo ora dopo aver ripetuto la subordinata la subordinata relativa che è l'ultimo argomento allora la subordinata relativa è quella frase o proposizione che è introdotta quindi da un pronome relativo il quale la quale i quali cui chiunque oppure da un avverbio relativo vi ricordate quel dove che io vi dico di non usare perché non è propriamente corretto e sarebbe meglio dire in cui nel quale comunque ci sono dei verbi relativi come dove dove dovunque allora facciamo degli esempi in cui c'è una subordinata relativa il panorama è quella cosa che vedi quando esci sul balcone infatti quello possiamo fare adesso usciamo sul balcone vediamo il panorama e quindi riprendendo la frase il panorama è quella cosa che è cioè quella cosa la quale vedi quando esci sul balcone rimanendo tranquillamente a casa secondo esempio mi trovo chiusa nella casa in cui abito da venti anni io abbiamo in cui non usato il dove e cui è un pronome relativo che quindi anticipa o meglio chiedo scusa introduce una subordinata mi trovo chiusa nella casa in cui abito da venti anni bene questa è la proposizione subordinata che noi chiamiamo relativa la prima volta che noi chiediamo a casa in cui abito da venti anni io Musica Bene, vorrei cogliere l'occasione per ripetere le funzioni del che. Perché l'abbiamo fatto diverse volte in classe, però vediamo di mettere a fuoco maggiormente, visto che stiamo parlando insomma anche della subordinata relativa, dove un che ha il suo perché. Perché? Allora, ricorderete che che ha diverse funzioni. Può essere pronome, aggettivo, congiunzione e anche un che perché che rientra nelle congiunzioni, però si scrive in maniera particolare, lo vedremo alla fine. Il che pronome relativo, ne abbiamo parlato finora parlando della subordinata relativa, è quel che che si può sostituire con il quale, la quale, i quali e le quali. Il pronome indefinito invece indica qualcosa di indeterminato e può essere usato in frasi come un non so che, ha un non so che negli occhi da far sperare bene, oppure c'è un che di buono in questa situazione. Dobbiamo essere capaci di trovare il buono in tutte le situazioni, forza, ce la dobbiamo fare. E quindi questo è il che pronome indefinito. Poi arriviamo al che che troviamo all'inizio di esclamazioni o di domande. Bene, se questo che sta a fianco a un nome è un che aggettivo, se sta da solo è un che pronome. Vale la stessa regola per gli aggettivi e per i pronomi. Noi sappiamo che sono aggettivi quelli che si accompagnano o accompagnano meglio un nome. Il pronome sta al posto del nome. Quindi se io vi dicessi che bella idea, che ragazza simpatica, che cos'è questo? È il che in forma di aggettivo esclamativo. Se invece vi dico che film hai visto, che lavoro fai? Quello è un che aggettivo interrogativo. E passiamo quindi poi al pronome esclamativo o al pronome interrogativo. Naturalmente il nome non c'è. E avremo che brutto, quindi il che come pronome esclamativo. Oppure che succede, il che come pronome interrogativo. E quindi arriviamo al che congiunzione, quello che non si può sostituire con il quale o la quale, che magari introduce una soggettiva oppure un'oggettiva. Ricorderete gli esempi. Quindi pare che sia tutto ok. Pare, non ha il soggetto, quindi che sia tutto ok è la secondaria soggettiva. So che non è facile. So, ha un soggetto sottinteso io, che non è facile sarà la secondaria oggettiva. Bene, siamo per arrivare alla fine di questa video-lezione con il che perché. Vi ricorderete il perché è sempre una congiunzione, congiunzione causale, ma nel parlato noi usiamo il che al posto del perché ed è l'unico che si scrive con la e accentata alla fine. È un accento acuto per l'esattezza. In esempi tipo questo, statevi alle case che dobbiamo arrestare il contagio. Quindi statevi a casa, lo diciamo in italiano, perché dobbiamo arrestare il contagio. Quindi con questo consiglio finisco qui la video-lezione, ma voglio ricordare una frase che fa il caso nostro di Albert Einstein. Lui diceva questo. Il tempo è relativo. Il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando. A presto ragazzi e ragazze. Vi ricorderete che ci siamo fermati alla subordinata relativa. Non mi piace. Salve ragazzi e ragazze. Nel riprend... Dai!